1 aprile 2000, Bon Vintas, Terades, Spagna, Cosun Ferreziatro, fa il primo 8 a più on-site. 1 aprile 2008, Alex Connolt, sale in free solo in 83 minuti, un 7 b più, The Moonlight Butters, 364 metri e 10 tiri, Zion National Park, USA. 6 aprile 2010, Maya Widmar, fa la seconda salita on-site di un 8 b più, Humildes, Pacasa, Oliana, Spagna. 6 aprile 2022, Alfein, Chironico, Svizzera, Boulder estremo di 9 a, viene liberato da Son Rabatou. 7 aprile 2011, Adamondra, libera la planta adessiva, 9 b, Villanueva del Rosario, Spagna. 12 aprile 2023, Will Bossi, fa la seconda salita, Burden of Dreams, 9 a di Boulder, Lapnor Finlavia. Ciao no grippers, sono Alexo, questo è Climbing Records, prodotto da NoGrip.